Qual è il senso della vostra iniziativa, la vostra proposta con questo convegno? Il nostro convegno nasce perché Milestone è una società in Italia, multinazionale ovviamente, che vende i suoi prodotti tramite i partner di canale. I nostri partner di canale prendono forza quando possono vendere non solo il nostro prodotto, ma anche i prodotti dei nostri eco-partner, che sono i produttori di telecamere e anche i produttori di soluzioni che portano valore aggiunto a Milestone. Quanto è importante la formazione per i vostri partner, per gli operatori di questo settore? La formazione è un elemento fondamentale. Poiché siamo in un'industria con una fortissima crescita e anche tasso di innovazione, si fa fatica a stare dietro l'evoluzione tecnologica. Per starci dietro e soprattutto avere un'impronta convincente nei confronti dell'utente finale, che dobbiamo ammetterlo spesso sa ancora di meno, effettivamente la formazione è l'unica strada percorribile ed ha ottimi risultati. Come fate formazione per i vostri partner? La formazione dei nostri partner è basata sull'idea di toccare con mano. La nostra formazione quindi ha una base teorica sempre accompagnata dalla installazione vera e propria del prodotto, la sua configurazione dalla A alla Z, in maniera che chi completa la formazione con Milestone praticamente diventa autonomo, quindi è in grado di operare sul mercato e ottenere ottimi risultati per il suo cliente.